Per sostenere le attività commerciali, l'amministrazione, affiancata da Confesercenti e da Confcommercio, intende agire con iniziative concrete. Alla nostra città sono stati assegnati 178 mila euro, rende noto il Vice-Sindaco Assessore al Commercio Daniele Tiozzo Brasiola, grazie a due bandi per la rigenerazione urbana e per la ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio. Tali risorse permetteranno interventi di riqualifica, di ammodernamento e una serie di interventi specifici destinati alle imprese. per un totale complessivo degli interventi di quasi 800 mila euro. Il distretto del commercio, che vede anche altri partner commerciali e economici nel turismo, vedrà come soggetti attuatori dei progetti, oltre al Comune di Chioggia, Confcommercio e Confesercenti. Verranno quindi sviluppati 11 progetti che spazieranno dalla rigenerazione urbana, alla promozione del territorio, agli incentivi per l'ammodernamento e la riappertura delle attività, dall'efficientamento energetico alla sicurezza. A questo percorso collaboreranno i settori commercio, turismo, lavori pubblici, urbanistiche e politiche comunitarie. Il bando prevede che i progetti siano tutti sviluppati entro luglio del 2024. Confesercenti e Confcommercio non possono chiedersi soddisfatti. Come ha commentato Roberta Gandolfo di Confesercenti, si tratta di una sinergia che permette di fare squadra e avere a disposizione strumenti per sostenere la crescita dell'impresa e cogliere alcune importanti opportunità per la città. Confesercenti si è impegnato a contribuire e a sostenere le imprese del commercio e della ristorazione in grado di valorizzare eccellenze locali, siano esse gastronomiche, culturali o legate all'accoglienza turistica. Metteremo a disposizione consulenti per promuovere il digitale affermato e per sostenere le imprese nella partecipazione ai bandi che verranno emanati dallo stesso distretto del commercio. Alessandro Dare, presidente Confcommercio Ascom di Chioggia, ha intervenuto sostenendo che il distretto del commercio può essere la soluzione di una buona parte dei problemi della nostra città. Si tratta di una strada impegnativa anche a livello economico, ma Ascom crede nel progetto e ci sarà. Priorità La rivitalizzazione del centro storico e la riqualificazione energetica. Il direttore Confcommercio Ascom Chioggia, Roberto Campici, ha aggiunto di aver condiviso il percorso enogastronomico che sarà condiviso anche con Confesercenti. Temi importanti, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale, in particolare il marchio Green, una certificazione che ha un valore aggiunto per la partecipazione a bandi regionali e comunitari. Grazie a tutti!